Sicuramente tra i tanti spacciatori che saranno capitati nelle maglie della squadra mobile di Arezzo, quello affermato nelle scorse ore è il più singolare. Sì, perché nonostante una disabilità che lo costringe in una sedia a rotelle, riusciva benissimo a spacciare hashish nella città di Arezzo. A fermarlo sono stati gli uomini della mobile nell'ambito dei servizi di prevenzione e repressione dell'attività di spaccio all'interno dell'operazione Street Drugs. I poliziotti hanno prima individuato e pedinato l'uomo. Si tratta di un 56enne a retino incensurato che si spostava con la propria sedia a rotelle elettrica per le vie del centro. Una volta fermato, la perquisizione è stata estesa al garage in disponibilità del 56enne dove i poliziotti hanno ritrovato sette panetti di hashish nascosti in un armadio per un peso complessivo di 685 grammi. L'uomo è stato arrestato ma l'autorità giudiziaria in ragione della disabilità e della incompatibilità con il regime carcerario lo ha rimesso in libertà.